Ovviamente, come ha detto Salvini, si faranno le primarie. Detto questo, mi sembra che il dato oggettivo dalla scelta degli elettori e dei cittadini sia che Salvini sia l'unica alternativa a Renzi in questo momento. Noi chiediamo coerenza con la scelta che hanno fatto i cittadini, una scelta che dice no all'immigrazione clandestina, la flat tax, che chiede priorità per i nostri cittadini, che chiede una politica di forte cambiamento che non sia serva dell'Europa, della Merkel o delle politiche boniste di questo centrosinistra. Chi sta in questa linea di coerenza, trasparenza, non verso la Lega, ma verso gli elettori, è il benvenuto. Chi invece tiene linee ambicue, vota 5 svuotacarceri, vota per Mare Nostrum, è chiaro che non può stare in una coalizione con la Lega.